Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Giuliano Baracaleone In questa puntata non ci sono solo io, saluta Mario Saluta? Ciao! Va bene, lui non sa parlare, va bene Sì, ciao! Facciamo le nuove avventure, i piatti contro zombie che sono usciti Le nuove puntate, vanno così veloce che questo zombie mi stanno andando E poi, 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 qui sono all'avventura Va bene, va bene, va bene, andiamo E' vero Aspettiamo che è carico Ehm, sta carico Sai che il caso non lo stai sentendo? E poi c'è stato un po' di silenzio Va bene E' bene, figlio Ragazzi, vi voglio dire che in questa nuova puntata vi faremo vedere le nuove cose di piante di Giuliano Baracaleone Infatti, infatti Praticamente un gabbiano ha una chiave di sotterranei E noi la dobbiamo guadagnare a tutti i costi usando le nostre stelle Peccato che io per sbaglio un giorno, la la la, tra la la, stavo vagando da quelle parti E per sbaglio con sette stelle ho comprato una stella Ehm, hai però E' un po' di paleno E posso dirmi? Se la vendi sempre a tua volita Cosa vendi? No! Attenzione, veramente A tua volita Ragazzi, forse, dopo, forse, no, non lo faremo però forse infatti è una sigla forse tra poco forse dopo questo vi oh mio dio che è successo sta per morire ragazzi l'avete visto allora ragazzi voglio dire mi vuoi riconnettere perché allora ragazzi vi voglio dire che per questi giorni no dopo questo video ok che dopo questo video forse periceremo un altro video di battaglie di Minecraft e facciamo e facciamo anche una bella polpetta si bellissima ce la mangiamo anche anzi la buttiamo in piatto eh si cuciniamo le polpette e lanciano tanti zombie come se fossero le polpette dello sparasini infatti bravo ragazzi ehi te lo si è bloccato no veramente no ok che è successo ecco ok magari andiamo 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 aspetta aspetta fammi vieni fammi voglio oh uno tempo uno tempo cosa uno tempo ah quello vabbè ci dovrai sicuramente Mario ti trasformo uno zombie così andiamo a quella grande cosa vabbè vabbè voglio stare voglio andare lì dentro a farci una bella battaglia del futuro si voglio stare lui aspetta mi tiro Mario vieni siediti se no la gente dice mi copri la visuale eh però però tiro se no copri la gente a tutti quelli che stanno guardando il video non vedono niente per il video tiro 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 aspettami aiuto Mario questo portale prima non c'era il portale misteriuso ah è attivato solo per tre giorni perché perché mi fate questo il mondo è bello io me lo vado dentro eh aiuto Mario Mario se tu vogliamo andare si andiamo nel grande perché allora un attimo un attimo voglio scusa ho sbagliato allora non può a a a a a a a si ho capito cosa ha detto ha detto che praticamente una chiave eh però ci vogliono 25 monetine 25 sì sì 25 allora se non mi sbaglio ecco siamo quali a che bellezza ragazzi avete capito se facciamo questa sfida lui se fingiamo ci dà delle stelle però questo gabbiano del cazzo non ce le vuole dare fai come fare mario ho detto non ti alzare se no quelli che guardano il video guardano la sua pesca la giretta da voi segui visto che non possiamo andare qui mario non fare una bel caccone quindi che facciamo vogliamo andare a fare una bella laggiù mario lino ti ho detto di ritornare a casa mario ti ho detto di tornare mario torna 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 mario beh beh visto che non possiamo fare niente completiamo le missioni allora qui dice di di quante stelle erano tre stelle solo per un mini mac allora una suprema ne voglio una suprema e le stelle niente una di dieci stelle me la potevate dare non vi ho fatto niente siete malefici siete malefici chiedono che orde aspetta dieci orde tomba dieci allora mario qui dice che se ci trasformiamo in zambolini e distruggiamo dieci piante potremmo potremmo aspetta fammi dire una cosa qua fammi dire aii mario mario vedemi a baciare faccio e dai giro mettila va bene anche se sono troppo bello tengo gli occhiali e tengo i bar mi vorrei guardare tanto allo specchio aspetta se non mi sbaglio dentro c'è uno specchio no voglio dire quanti soldi nel diamo ah ma aspetta torniamo all'ultimo torniamo ho cinquamila monete non so se faccio schifo sono di grado schifo ma chi ma io non voglio più andare in sto negozio qui la roba costa troppo va bene giriamo un po' intorno e largo e vediamo se troviamo uno specchio ah visto quello Mario si va bene vabbè visto che non c'è niente andiamo a fare la forza della bandiera con il nostro zio Mac ragazzi 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 attivi ragazzi ragattivi ragattini ragattini che figata allora cari nostri ragattini se non me ne siete accorti mi hanno già passato per me ragazzi non di Mario ma che cazzo ti spari Mario 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 ho detto siediti Mario attento il mio ternicac il mio ternicac il mio ternicac ternicac non puoi non puoi ho detto no sono stato ucciso per colpa di Giuliano aiuto Giuliano sta entrando mi sta toccando ragazzi aiuto a te ragazzi sto facendo il mio ternicac giusto Giuliano te parla è la tua che non ti vuole dare gioia stiamo guardando meglio Giuliano aspetta un po' che finiamo perché poi man è qui terra d�ge tutto di Mario Mario Biden i hoi justa in tempo prima feeling fr Lipi di grabe bra sia l ł ben Ciao, Tiro! Ciao, Tiro! Ciao, Tiro! Perché non ti fatevi dare un registro con Giuliano? E che stiamo facendo un attimo video, capito? Vabbè, vado a giocare il prezzo, dai! Maria, vuoi fare scambio con Giuliano? Io non vuole fare scambio, però. Maria, ci stanno attaccando i girasoli! L'attacco dei girasoli! Ti ho detto che non ti devi pensare quando stiamo facendo l'attacco dei girasoli. Quante volte te lo ho detto? Vieni! Vai, 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 vai! Esci! Esci! No! Bomba le canne! Oh! Mi sta attaccando il girasolo, il copaleno! Aspettatevi! Mario! Giuliano, è il uccele che parli a bassa puglia, non vuoi parlare? Tiro! Eh, Giuliano, è Mario, è Zagliano! Giuliano, ma non stai vogliono un video, potevi aspettare, ti ho detto che... Mi ha fatto la mia marina, ecco! Oh, mia gente, ok!